Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Arriete, vi attende una piccola spesa improvvisa e sarà meglio evitare acquisti in questo periodo. Toro, non avete oggi molte possibilità di farvi capire o di spiegarvi, alcune vostre scelte sono ampiamente criticate. Gemelli, imprevisti e disguidi, meglio evitare viaggi e luoghi troppo affollati. Cancro, venere particolarmente nervoso oggi potrebbe creare qualche problema anche profondo alla radice. Leone, forti emozioni e alcuni cambiamenti da fare. Vergine, ottima intesa con capricorno e arriete, solo attenti alle loro impulsività. Bilancia, malumore e rabbia potrebbero materializzarsi all'improvviso per il ricevimento di notizie. Scorpione, tanti troppi pettegolezzi sul vostro conto, fate finta di niente, finiranno così come sono nati. Sagittario, oggi un amico o un'amica di cui vi fidate potrebbe darvi un dispiacere o sgambettarvi per il semplice gusto di vedervi in difficoltà. Capricorno, situazioni nascoste verranno alla luce, ti andrà di stare solo e rilassato. Acquario, poca sicurezza nei rapporti con gli altri, la vostra timidezza potrebbe tirarvi qualche piccolo scherzo. Pesci, giornata nervosa e con alcuni contrattempi che potrebbero farvi spasentire. Questo è tutto, a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo. Ciao! 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 Grazie a tutti